Angelo Cerbi, Fred Film Radio dal Festival di Venezia, sono con Giorgio Verdelli, buongiorno. Eccoci di nuovo qui. Esatto, Once Again. Once Again per un altro film su un altro gigantesco personaggio della musica, in questo caso anche una persona enorme, no? Ezio Bosso, Le cose che restano. Un documentario, devo dirti, che io l'ho visto in tre parti perché quando poi piangevo smettevo. Mi sono commosso tantissimo. Perché secondo me è un ritratto più che di una personalità musicale della persona, dell'evoluzione di una persona. Ti volevo chiedere, la linea narrativa per un film di questo genere su un personaggio così, come riesci a costruirlo? Con che fatica hai costruito? Allora, intanto hai dato già l'idea del documentario, che è esattamente quella. Sai, la linea narrativa, ci sono vari tipi di documentari, sono dei documentari che nascono già scritti e scalettati. Non è stato questo il caso. Non è stato questo il caso per due ragioni. Perché Ezio Bosso ha fatto delle cose talmente diverse nella sua vita, e soprattutto cose che non si conoscevano, che noi non conoscevamo, ma che non conosceva neanche la famiglia. Per cui io in questo documentario ho fatto il detective, non ho fatto l'autore. Sono andato alla ricerca delle tracce di Bosso. Per dirtene una, c'è il grande Silvio Orlando, che io sapevo che avevano avuto una connessione, non sapevo in che modo. Lui a un certo punto mi ha raccontato che avevano condiviso il palco in Francia. Dico, ah, bella questa cosa, ma c'è qualcosa? No, non lo so, non c'è niente. Vabbè, muo vedo, poi ti faccio sapere. Ha chiamato e ha trovato delle foto in Francia, che erano sul palco, con Bosso che suonava il contrabbasso, e lui che recitava Dante. Ma le foto non le aveva viste neanche lui. E naturalmente mi sono arrivate 12 giorni prima della fine del documentario. E la stessa cosa è successa col brano inedito, le cose che restano, è arrivata una settimana prima, e quindi ho dovuto rimontare. Però forse questo modo di procedere, come dire, con un pio un po' gezzistico, perché si parla tanto dell'improvvisazione, che viene, l'improvvisazione c'è una doppia valenza, no? L'improvvisazione, tutti pensano che sia una cosa negativa, no? Quella è una cosa improvvisata. Ma attenzione, l'improvvisazione nel jazz è fondamentale. Ci sono le scuole improvvisate, perché tu per improvvisare devi conoscere le regole dell'armonia, se no non puoi improvvisare. Capito? C'è una cosa famosa, no? Che... Vabbè, scusa, faccio la citazione, posso farla? Io amo queste cose. Allora, i Weather Report cambiano bassista. Vanno tutti i bassisti di New York a presentarsi al provino con Joe Zawinul e Wayne Shorter. Mi vengono in brividi perché la storia è vera, me l'ha raccontata Joe Zawinul. E arrivano tutti, perché se n'era andato a Milano Slavitus. A un certo punto arriva uno col basso legato con lo spago, ok? Malmesso. Tu chi sei? Io sono il bassista. Tu sono il più grande bassista del mondo. Loro dicono, vabbè, questo è un pazzo. Ok. Che cosa vuoi suonare? Lui li guarda e fa, quello che volete voi, improvviso. Cazzo, questo sarà un pazzo. Sono Joe Zawinul e Wayne Shorter che suonano, voglio dire, tra i più grandi musicisti del Novecento. Costui suona sette minuti, Joe Zawinul si ferma. Ok, hai ragione, sei con noi. Era Giacomo Pastorius. Questa è l'improvvisazione. E siamo un po' nel campo, adesso, con le debite proporzioni, però siamo nel campo di Ezio Bosso. Perché Ezio era qualsiasi cosa. Si parla di improvvisazione, ne parla Paolo Fresu. Era, sì esatto. No, ma poi, oltre a questo, era proprio, come dicevi tu, era un musicista, non a 360 gradi, a 690. Perché faceva tutto con tutti, basta che ci fosse un feeling, ci fosse una affinità musicale. Lui il genere non gli interessava, il luogo non gli interessava, prendeva e partiva dal giorno, prima al giorno dopo per andare a fare cose ovunque. E l'aspetto umano, l'aspetto dell'evoluzione della persona, perché è quello che a me ha sconvolto emotivamente. Anche a me, ovviamente. Perché lui, a un certo punto, la sua vita crolla, si disfa, ma non è vero, ma si ricostruisce e diventa ancora più grande di prima. Sì, è vero. Guarda, devi sapere che il titolo, il primo titolo di questo documentario era Nonostante tutto. Poi mi è arrivato quel brano e ho detto, vabbè, allora si chiama... Ed è proprio questo, la capacità di reinventarsi completamente. Lui ha avuto, in una vita breve, ha avuto 5 vite, 6. Senti, volevo chiederti una cosa musicale. La scelta dei brani, perché ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Paolo Conte la volta scorsa. La scelta dei brani su un documentario, su un personaggio musicale è sempre molto complessa e può fare il bello o il cattivo. Fa la differenza. Fa la differenza. Qui, come hai scelto i pezzi? È stata una gran fatica, perché bisognava scegliere i pezzi, ma in più, rispetto a Paolo Conte, c'era anche il fatto che bisognava averne i diritti. Alcune volte non si sapeva a chi appartenessero questi diritti. Per cui, no, è stata una cosa molto laboriosa, però li ho scelti sempre in funzione narrativa. Cioè, secondo me, un pezzo non è mai un pezzo, come si facevano nelle scale tutte le volte, a brano musicale. No, deve stare dentro la storia. Possibilmente narrato dallo stesso Ezio Bosso, o da Gabriele Salvatore, o da Paolo Fresu e così via. E questo è stato l'amore. E poi, a un certo punto, le cose si montano da sole, dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo. Va bene. Bene, allora, Ezio Bosso, Le cose che restano, documentario di Giorgio Verdelli. Grazie mille, sia per il film e per essere stato qui da noi. Grazie. Posso dire che mi sono seduto sulla stessa sedia di Jimmy Page. Dove sei stato Jimmy Page, quindi capisci che comunque ti abbiamo fatto un regalo anche noi. Grazie. Grazie mille. Angela Cerbi, Fred Festival Insider.